Benvenuti in FEDERCRALITALIA NEWS insieme alla nostra Paola che è il punto FEDERCRALITALIA di Maranno. Ciao Paola! Ciao! Che bello, almeno ci vediamo. Almeno così ci vediamo. Allora Paola, che si dice dalle tue parti a Maranno di Napoli? Come stai? Allora, diciamo che le persone sentono un po' la nostra mancanza, perché come sai le nostre attività sono sempre piene di informazioni, biglietti, sconti e quindi sentono un po' la nostra mancanza, però noi non molliamo. Stiamo lavorando per il futuro. Assolutamente! Infatti anche la nostra nuova iniziativa come sta andando alle tue parti? Sì, allora, bellissima iniziativa che regaliamo dolcezza. Con le nostre uova, come ogni anno noi facciamo questo servizio, offriamo questo servizio e anche quest'anno diamo la possibilità, soprattutto a chi ha i nipotini, di regalare l'uovo di Pasqua e lo consegniamo noi, cioè non noi personalmente. E' importante perché il messaggio che volevamo appunto far capire era quello che anche se non possiamo stare vicino, noi ci comunque adattiamo a delle nuove modalità per stare appunto vicino, quindi in questo caso le uova di Pasqua sono proprio uno di questi nuovi nostri servizi. Le nostre attività sono sempre molto belle e richieste soprattutto. È vero, è vero, è vero. Allora Paola, vediamo un attimo a noi. Oltre a comunque ad essere un punto federalitario di Marano, e non vedo l'ora di stare alla grande tutte le cose che so che comunque mi dici sempre che comunque ti mancano ovviamente le tue persone, i tuoi clienti, ma so che comunque tu stai realizzando delle attività importanti che comunque vuoi condividere con tutti quanti noi, è vero? Tramite la tua azienda, Meti Academy. Sì, sì, è un'associazione culturale che si chiama Meti Academy e grazie alla fusione di alcuni volontari professionisti abbiamo messo a disposizione la possibilità di far imparare alle persone una nuova competenza che può essere l'informatica, può essere una nuova lingua, l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, che può essere un corso di canto, il corso di nail art, quindi diciamo ci siamo uniti e abbiamo attivato questa solidarietà digitale e devo dire che sta avendo molto successo perché le persone, ovviamente non c'è il limite di età, le persone rispondono bene e hanno voglia di fare in questo periodo. Quindi le persone ti contattano direttamente e partecipano a quei corsi online che sono penso diversi, vero? So che comunque fai lingue, fai informatica. Sono diverse, possono scegliere se frequentarne uno o più di uno, si concorda il giorno e l'orario e attraverso la tecnologia che può essere Whatsapp, Skype, facciamo queste lezioni. Ottimo, io le segnerò tutte queste cose nel nostro posto, così ti contatteranno perché è un nostro modo per stare vicino alle persone e in questo caso l'Apetic Academy, che fa parte appunto di Fedecreale Italia, offre corsi online gratuiti che lo possono fare direttamente ovviamente da casa. Sì, sì, perché noi ci rinventiamo sempre. Sempre. Cadiamo e non togliamo. Bravo. Chiudiamo in bellezza con il nostro hashtag. Sì, il nostro hashtag è questo. Io ho un sorriso. Ottimo, Paola. E perché con Fedecreale Italia? Conviene, anche da casa. Anche da casa. Grazie mille, Paola, non vedo l'ora via di abbracciarti forte, forte. Ci vediamo presto, ma siamo comunque, rimaniamo sempre in contatto. Grazie mille. Ciao, Paola.